Esordio shock nei quarti per l'Acqua e Sapone. L'Augusta stupisce tutti e vince al Palo Roma l'andata dei quarti di finale. Appunto 2 a 5 il verdetto finale. L'Acqua e Sapone Unigross per tre quarti di gara gioca il suo futsal. Crea occasioni ma viene sorpresa dalla portiera di movimento ad oltranza di Everton. Alterna, Zanchetta, Crema e Follador, poi anche Pedrinho e Simi nella ripresa. Ci lascia dunque le penne la squadra di Perez. Ora deve vincere ad Augusta sabato alle 19 in diretta su Sport Italia per andare a gara 3. Il gol nerozzurro arriva subito con Avellino. Bravissimo. È sulla ribattuta corta in area dopo 5 minuti. Everton ricomincia a insistere con la portiera di movimento facendo allungare Cuzzolino e compagni sul parquet per imbucare sempre un uomo a tu per tu con Mammarella. Al nono il gioco riesce e pareggia il Maritime con Crema che da portiere di movimento viene dimenticato in area. Al sedicesimo traversa di Ercolessi dalla distanza. Nel finale le squadre si aprono e anche Mammarella deve entrare in partita. Tre parate pazzesche nel giro di pochi secondi prima della sirena a legittimare il pari della prima parte di gara. La ripresa si apre con l'avvantaggio siciliano di Pedrinho. Anche lui in maglia gialla da portiere di movimento. Sono passati tre minuti e ora la partita è una montagna da scalare. Si gioca solo nella metà campo siciliana ma i nerazzurri non sfondano. Nemmeno quando Bissoni a metà tempo regala a Coco la palla del pari. Ancora il portiere siciliano determinante con una doppia parata. La notte stregata è confermata dal palo di Coco a porta vuota e poi di Cuzzolino dalla distanza. Al dodicesimo dal CIN ancora incredibile su Avellino. Sono segnali nefasti perché sulla ripartenza che segue Zanchetta vola sulla destra e segna l'1-3. Ora deve giocarci Perez col portiere di movimento per salvare la partita. Inserisce Coco ma subito dopo arriva un patatrack inspiegabile. Cambio del portiere con palla in possesso della Maritimen per Caio Iapa. È troppo facile segnare nella porta vuota mentre Mammarella sta ancora togliendo la pettorina. L'1-4 è una mazzata nella testa dei Nerazzurri che vanno in blackout totale. Passano pochissimi secondi e Caio fa doppietta segnando ancora nella porta vuota. 1-5 la partita è compromessa anche se restano 4 minuti da giocare. Murillo e compagni trovano solo il 2-5 di Giannis ma niente di più. Ora serve una partita eroica al Palla Ionio per portare i quarti a gara 3.